Anna sarai quella là in fondo Suppongo Allora proviamo a risalire un po' Tipo 20 blocchi Così verso l'alto E riapriamo un tunnel Dobbiamo arrivare sotto la zigurata Praticamente ok Ma io mi sono perso È molto difficile orientarsi qua sotto Possiamo riprovare a fare un'altra volta Il bug di strecato per vedere sotto terra Ma quindi andiamo a zig zag scavando Oh Che hai visto? Il nome Il nome Cosa ha fatto? Ha slogato Era qua Era qua avete visto tutti? Abbiamo la clip Qualcuno può fare la clip Era qua era qua Era in questa caverna sono sicuro Fermi 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 Era qua Adesso lui non riloggerà mai più Perché noi l'abbiamo beccato Però non doveva sloggare Aveva detto che se ci se lo trovavamo Restava Te l'avevo detto che non c'era da fidarsi Ma ti pare?